necessità. Massimiliano Quaresiming, adesso facciamo parlare a lui che è rappresentante del consorzio Prisma, che è una realtà estremamente significativa non solo da un punto di vista sociale ma anche effettivamente da un punto di vista economico ed è il consorzio di tutte le cooperative sociali. Buonasera, oggi parto dall'esperienza di una ESCO, di una società appunto di servizi energetici, Energy Service Company in inglese, che nasce però appunto dalle cooperative sociali, proprio per valorizzare quella caratteristica delle cooperative sociali che è quella di consolidare le relazioni tra le persone partendo dai bisogni delle persone più deboli, cioè diventa una necessità che la relazione sia sana se voglio proporre un beneficio sociale, un beneficio sanitario per le persone di cui mi prendo cura, come no. Per cui il fatto di partire da relazioni stabili e di lavorare sempre per questo rafforzamento, per questa crescita è caratteristica fondamentale. Per cui rispetto alla domanda fate la vostra parte per costruire delle relazioni nuove è la natura delle imprese sociali e la caratteristica delle imprese sociali che si occupano appunto di interesse collettivo. Abbiamo scelto anche appunto alcune di queste imprese di lavorare sul settore dell'energia appunto costituendo una Energy Serving Company, una società per azioni che ha fatto alcune esperienze, alcune tra l'altro sono simili a quelle raccontate prima dagli amici di Capannori, per esempio loro stanno costruendo il nido in legno, noi qui a Schio attraverso le cooperative sociali abbiamo già costruito la comunità residenziale di legno che è quella a Bile, appunto, qui in diritto di superficie con il comune, quindi con questa relazione di reciprocità evidente anche negli strumenti che si scelgono. Questa è la prima esperienza, la seconda l'abbiamo fatta in comuni virtuosi, il comune di Lodi per esempio, dove siamo intervenuti con l'attività di imprese sociali di Brescia su due strutture, un teatro e una scuola nel comune di Lodi con risparmi nel primo anno dei consumi energetici per il 50% nel teatro e per il 60% nella scuola con alcuni interventi di investimento anche abbastanza limitati. Adesso abbiamo invece studiato nel comune virtuoso del Ponte delle Alpi, che conoscete molto bene, Conezio Orzes, degli interventi su alcune strutture pubbliche, investimento complessivo di 250.000 euro, quindi non è molto elevato e anche qua i risparmi energetici sono significativi. Quindi c'è la competenza tecnica che poi utilizza le imprese, gli artigiani, quindi non sono le imprese sociali che da sole ovviamente non hanno tutte queste competenze, alcune sì, altre meno, no ma insomma però vanno, certamente si integrano con le imprese artigiane, industriali del territorio, però noi ci aggiungiamo qualcosina in più, che è quella appunto riprendendo l'esperienza lunga ormai appunto di servizi sociali di farlo anche in questo caso coltivando la relazione stabile. Questo in che modo? Così introduco l'intervento di chi mi segue e che conosco da vicino, cercando di mettere in moto un sistema anche finanziario collegato perché il nostro Renzo qua della serata di oggi diceva ma i capitali non servono, Gigi non Renzo nel senso prossimo sposo, no non è vero perché nell'energia i capitali servono come? Dall'esperienza che facciamo noi la redditività proviene dagli investimenti perché la quota, la componente lavoro su gli impianti di efficienza energetica piuttosto che su gli impianti da fonte rinnovabili è limitata intorno al 10% rispetto alla redditività che proviene dall'investimento, quindi io devo investire. Noi lo stiamo facendo, abbiamo trovato un primo partner che è Banca Popolare Etica, con questa ci stiamo lavorando, ma questo modello deve estendersi, deve estendersi alle imprese finanziarie e territoriali, perché Banca Popolare Etica è un piccolo piccolo medio banca di credito cooperativo che ha l'ambizione di lavorare in tutta Italia, ma dobbiamo riprendere la competenza finanziaria dei nostri contadini, cioè di coloro che sanno risparmiare e utilizzarla in quella direzione lì, cioè nello scopo della reciprocità. Noi una cosa l'abbiamo proposta e sono convinto che arriverà in fondo, che è questa, proponiamo alle imprese cooperative finanziarie, cioè alle banche di credito cooperativo, di scegliere queste operazioni che hanno questo carattere di reciprocità, l'impianto fotovoltaico sul palazzetto che abbiamo fatto a Lodi per esempio o che abbiamo fatto a Coriano, di finanziarlo attraverso un sistema di partecipazione pubblica, in che modo? Sono le imprese cooperative che si fanno loro filtro di una certa quota di risparmio, che può arrivare fino al 50% al nostro obiettivo dell'investimento da fare, sul palazzetto di Lodi mi ha speso 400 mila euro, rendendo efficiente anche l'impianto di riscaldamento di quel palazzetto, risparmiando anche lì 50%, circa 10 mila euro all'anno risparmiati di energia dei consumi energetici di quel palazzetto lì. Quegli investimenti da 400 mila euro come lo facciamo? 200 mila euro li raccogliamo attraverso un sistema di azione a rato diffuso collegato con le imprese sociali del territorio, insomma gli altri 200 mila euro lo mettono le banche di credito cooperativo, banca etica, nel caso di Lodi, insomma, comunque non le imprese finanziarie del territorio, a condizioni, cioè voglio dire, con un parametro di indicazione che non è lo spread, ma è il tasso di finanziamento che altri, oltre a quelli che hanno messo 200 mila euro, decideranno di sottoscrivere nella banca di credito cooperativo, cioè che sia la banca di credito cooperativo e mettere un titolo sul quale stabilire il parametro di costo, cioè se io accetto il 2% di obbligazione della banca di credito cooperativo, il finanziamento deve essere al 4%, cioè io dico uno spread del 2% sul risparmio dedicato, questo va messo in moto, cioè è obbligatorio come, perché non 150 anni fa, ma 500 anni fa le banche le abbiamo inventate come, giusto? Non sono nate dai nostri francescani, ecco allora da lì, appunto, appunto, allora perché bisogna recuperare quella saggezza con cui le abbiamo impostate, dove io vado a dedicare il mio risparmio, vado a sceglierlo e anche ad impostare il parametro di costo, cioè scelgo un risparmio e su quello aggiungo una rimunerazione di intermediazione che va trattata, voglio dire, insomma, che deve essere adeguata. Sono partito dicendo che noi ci occupiamo delle persone deboli, dei pannolini citati dall'amico Dea e anche dei pannoloni, permettetemi, insomma, perché c'è il problema del pannolino, ma c'è ancora di più il problema della persona invece che ha bisogno di assistenza più importante. Se non siamo stabili in quella relazione lì, non possiamo pretendere che ci sia un minimo di salute garantita, insomma, un minimo di percorso personale, educativo, come volete. Questa stessa competenza, secondo noi, è possibile spenderla anche nei processi imprenditoriali dove il capitale comanda, come l'energia. Lo abbiamo visto, lo abbiamo fatto, possiamo ampliarlo, possiamo ripeterlo. Su questo so che certamente, appunto, il Comune di Ponte Nelle Alpi e altri comuni virtuosi ci stanno accompagnando, immagino che anche qui nell'Alto Vicentino sarà facile trovare dei modi per continuare a collaborare.